Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Portafoglio ETF fatto in collaborazione con Trend Online. Oggi andremo a vedere l'operatività di domani, giovedì 10 aprile, sulla base della chiusura delle candele giornaliere del nostro gruppo di ETF. Inizio col dire innanzitutto che oggi la giornata di bordo è stata piuttosto tranquilla, non ci sono stati grossi movimenti sui mercati europei e neanche su quelli americani, questo perché è stata una giornata senza particolari dati macro, per cui piccole variazioni come vedremo, c'è solamente da segnalare per il mercato americano che è iniziata oggi con Alcoa, come tradizionalmente succede la nuova stagione delle trimestrali, il dato è stato superiore alle aspettative, chissà che questo non sia positivo anche per il proseguo dei nuovi dati che nei prossimi giorni arriveranno sempre più fitti dalle imprese americane. Stasera inoltre alle 8 ci saranno resi pubblici i verbali della Fed, ricorderete l'ultima riunione con della Yellen, per cui magari vedremo se sarà più chiaro, che è una cosa particolarmente importante per i mercati, come avrà intenzione rimuoversi la Fed in termini di timing, per il proseguo del tapering e soprattutto per l'innalzamento dei tassi di interesse, che è naturalmente la cosa che più spaventa i mercati. Detto questo andiamo velocemente a saltare le chart introduttive e vediamo come si sono mossi i nostri grafici. Eccoci qua, iniziamo dal Sud Africa dove naturalmente siamo fuori, ma non c'è nessun nuovo segnale comunque da far vedere. Siamo fuori anche dallo Statenpur, oggi vedete ha tentato un piccolo rimbalzo, ma il nostro ETF ha praticamente chiuso sui prezzi di ieri, per cui manteniamo la nostra neutralità sui mercati americani. Dalla Russia eravamo usciti con un piccolo guadagno, siamo quindi fuori, vediamo se ci saranno nuovi segnali per eventualmente rientrare. Siamo invece ancora a long sull'Afri, che è praticamente un ETF che ha come sottostante le principali borsi africane. Vedete oggi ha comunque dato un buon segnale, ripeto i movimenti per il momento sono estremamente piccoli, ma comunque ha chiuso di nuovo sul bordo superiore di questa lunga stabilizzazione che va avanti ormai da parecchie giornate. Manteniamo comunque il nostro acquisto su questo ETF. Avevamo preso profitto con l'India e i prezzi per il momento sono rimasti laddove l'avevamo lasciato ormai da 4 giorni. Sul nostro indice c'è stato oggi come detto un più 0,2 per cui abbiamo ripreso un guadagno ritornato a 2,5. Qui chiaramente lasciamo il nostro buy, ricordiamo che il nostro indice è probabilmente tra i più dinamici oggi al mondo in termini di reattività quando c'è da salire, per cui magari vediamo se da queste parti in area 21,5 e massimo 21,4 ci possa essere l'inizio nuovamente di un ulteriore rialzo. Ripeto, ci sono state nelle ultime due giornate alcune prese di beneficio, ma queste sono naturalmente fisiologiche in qualunque trend ascendente, per cui manteniamo per il momento il nostro trend, il nostro long. Cina eravamo usciti qua, oggi ha un po' ritracciato debolmente e i prezzi sono rimasti più o meno là, per il momento siamo fuori e rimaniamo in osservazione. Un ritracciamento abbastanza robusto oggi invece per il Brasile, che vedete ha sottigliato il nostro guadagno al 16,2%, è difficile dire che cosa potrà succedere nelle prossime giornate perché qui la volatilità e la forza del trend è stata molto forte. Io non credo che questo sia il massimo assoluto perché dopo un trend del genere è possibile che si vada comunque a ritestare le resistenze. Usciamo temporaneamente, ci prendiamo un profitto e vediamo se magari in area 15, 14, 80, quindi sui principali supporti, ci sarà qualche nuovo segnale per tentare di prendere un altro rialzo su questo mercato. Però nel frattempo suggerirei di prendere profitto. Nasdaq siamo fuori, oggi piccolo ribalzo, anzi ieri, oggi più o meno i prezzi stanno molto vicini alla chiusura di ieri, per cui nessuna novità, vedete siamo di nuovo in area supporti, vediamo se domani ci sarà qualche segnale rialzista. Turchia siamo fuori anche oggi, però comunque vi segnalo oggi un piccolo storno, vedete la stessa candela con piccolo corpo che avevamo visto qualche chart fa sul Brasile. Giappone, ieri era il grande dubbio perché era una situazione critica e veramente dubbia, dicevo ieri che si poteva anche chiudere, non avevamo chiuso perché comunque lo stop loss non è stato raggiunto, oggi di fatto non è cambiato nulla, nel senso che i prezzi sono rimasti esattamente allo stesso livello di ieri e vedete siamo ancora poco sopra al nostro stop loss, per cui abbiamo preso la decisione ieri di mantenere il Giappone, visto che la giornata non è cambiato nulla, i prezzi sono allo stesso livello, pur sapendo che questa è chiaramente una posizione a rischio perché qua già perdiamo circa l'1,5%, però a questo punto conviene mantenerla e vedere di evitare uno stop loss e sperare che il Giappone, che comunque ci ha abituato anche a repentine variazioni, perché è un indice di grande volatilità, possa riprendere la strada di rialzo da questi che sono comunque dei supporti di medio periodo che dovrebbero essere abbastanza forti. Per cui sapendo che è una posizione a rischio proviamo a mantenere ancora un'altra giornata l'indice giapponese, codice IJPE. Eurostox siamo fuori, nessuna novità da segnalare, una candela di stabilizzazione come vedete molto piccolina. Avevamo attivato uno short sul DAX da queste resistenze, da questo primo segnale poi confermato, oggi rimbalzo, come vedete, per cui comunque una candela rossa e rimbalzo non è stato così forte da interrompere quello che al momento sembra essere un trend ribassista di breve periodo. Per cui proviamo a mantenere il nostro short. Ecco, abbiamo chiuso sul Brasile, che è una posizione estremamente volata e dove abbiamo fatto un ottimo profitto, qua si può invece tenerne una delle due, gestirla un po' in un'ottica di portafoglio, visto che il Messico è un po' meno volatile e abbiamo comunque un ottimo margine, magari qua possiamo resistere fino a eventuali prese di beneficio che possano arrivare in area 4.06, 4.02, che vedete non è moltissimo. Per cui sul Messico magari si può tentare di tenere e vedere se magari riuscirà a raggiungere a questo punto l'ulteriore area di resistenza, che evidentemente è posizionata in area 4.30, 4.35. Per cui chiudiamo il Messico e proviamo a mantenere, e chiudiamo il Brasile e proviamo a mantenere il Messico. Passiamo alle commodities, agricoltura oggi una buona candela di rialzo, vedete si è riportata sopra 5.88, ha chiuso a 5.89 e per cui ha rotto le resistenze delle candele Aikinashi. Non ha fatto il prezzo massimo di periodo, perché vedete qua aveva toccato anche quota 6, però sembra ben indirizzata comunque questo ETF per tentare di proseguire questa strada di rialzo che seguiamo ormai da parecchio tempo. Gold è una candela di stabilizzazione per cui nulla da segnalare, manteniamo il nostro buy. Metalli industriali è una candela di stabilizzazione, oggi in realtà l'ETF è moderatamente cresciuto, è circa 1.02, ma questo naturalmente non cambia la situazione, ma ci dà quantomeno la conferma che queste tre candeline rosse, ma dal corpo molto piccolo, possano essere una temporanea stabilizzazione. Qua abbiamo ancora un buon margine da gestire, questo 1,7% di incremento nel nostro segnale d'entrata, per cui metalli industriali, codice AIG, manteniamo il nostro long. Lo manteniamo anche per il natural gas, che vedete si è mosso comunque poco oggi. Un po' più dinamico invece il petrolio, che vedete ha fatto una buona candela verde, vedremo se riuscirà a proseguire questo trend di breve periodo al rialzo. Bene, anche per oggi tutto, vi passo alla chart riassuntiva, dove abbiamo quindi tutte le nostre posizioni in essere, per cui le manteniamo sostanzialmente tutte, materie prime Messico, Africa, Italia e Giappone, e prendiamo invece profitto sul Brasile, questo perché pur credendo che probabilmente il trend non è finito, lasciamo che l'indice si sfoghi dopo questa corsa forzennata e magari cercheremo un'entrata nuova, più vantaggiosa, magari tra qualche giorno. Manteniamo anche il nostro short sul DAX, che è attualmente l'unico short del nostro portafoglio. Vi ricordo brevemente la possibilità di fare l'abbonamento settimanale per ricevere segnali sul portafoglio ETF fatto su analisi settimanali, per cui per posizione di medio-lungo periodo, e lasciandovi di nuovo i miei contatti, vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi auguro una buona serata. A presto!